Noi non ce ne accorgiamo Pascualino, ma noi dobbiamo stare male, noi stiamo male, noi stiamo inguaiati, non possiamo vivere. Vite. Perché guarda Pascuali, quando uno porta il trampo come me tutta la giornata, o pulisce la rotaia come te, a certe cose non ci può pensare, allora ci sono altre persone intelligenti, istruite, buone che pensano a noi, non fanno altro tutta la giornata che a pensare a noi. Veramente. Per esempio dicono, Pascualino pulisce le rotaie, e vè, quanto guadagna? Guadagna tanto, lui è da fatto, c'ha i figli, deve guadagnare di più. Ma questa gente buona, lui c'è sempre stato. E ci sarà sempre. E ma non c'è nà, se erano buoni non ci facevano fare questa guerra. Questo è il fatto, non ne potevano fare almeno, perché quello che succede qua, succede dappertutto. E non è, i buoni ci sono in tutti i paesi, allora che cosa accade, che quando i buoni di un paese non si mettono d'accordo con i buoni di un'altra nazione, scoppia la guerra. Ma tu ti ricordi quel giorno che stavamo qua tranquillamente, da un momento all'altro? Ecco, uno scempio, una catastrofe. E non si parla di guerra un'altra volta? Armi nuove, bomba atomica, se scoppia. Don Cernaro, io non ci credo. No. La guerra non scoppia. Ho la mia convinzione. Io pure credo, io pure credo. Non ci credo, io non ci credo, io non ci credo, io non ci credo.